Luigi Sbarra, segretario generale CISL, di fronte alla platea degli industriali del Veneto rilancia è il momento di condividere un nuovo patto per la crescita, la coesione sociale, serve meno conflitto sociale più partecipazione e importanti in questo momento lavorare insieme per il rilancio del paese Intanto dobbiamo riprendere il confronto per dare attuazione al patto della fabbrica In questa intesa sottoscritta qualche anno fa ci eravamo dati degli affidamenti molto importanti discutere del tema della partecipazione, della formazione, del mercato del lavoro, degli ammortizzatori sociali sul tema di come rilanciamo l'impegno sulle relazioni sindacali reso ancora più urgente oggi perché si tratta di definire un'organizzazione del lavoro nelle aziende alla luce degli effetti della grande emergenza sanitaria quindi una reciproca disponibilità a riprendere la via del dialogo, del confronto per essere anche più forti nel negoziato col governo sui temi delle grandi riforme sulla fase di attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza Io penso che le relazioni sindacali in questa fase di crisi economica, sociale e di emergenza sanitaria ritornano ad essere centrali per la crescita e lo sviluppo del paese È necessario costruire strategie di rilancio Stiamo negoziando con il ministro del lavoro, ha proseguito il leader della CISL la riforma degli ammortizzatori sociali Viene avanti un impianto nuovo, moderno Introduciamo un principio di vera uguaglianza nel mondo del lavoro Finalmente, ne parliamo poco introduciamo un principio di vera uguaglianza nel mondo del lavoro assicurando protezioni sociali anche alle piccole aziende sotto i sei dipendenti e allargando all'area del lavoro parasubordinato e del lavoro autonomo Ma comincia adesso una grande sfida quella di ragionare sulle politiche attive per il lavoro Il paese ha necessità di costruire una visione, una strategia di rilancio delle politiche attive per il lavoro per mettere al centro in operatività i centri per l'impiego per creare un raccordo tra i centri per l'impiego pubblici con le aziende per il lavoro private creando una sinergia, un incrocio delle banche dati ed è la condizione che oggi necessita al mercato del lavoro un grande investimento sull'orientamento, sull'occupabilità sulla presa in carico delle persone per governare questa forte asimmetria questo disallineamento tra domande e offerta di lavoro per l'impiego pubblici